benvenuti a tutti a questo nuovo hammer test destroy test trapano test made in sicily abbiamo qua davanti un iphone 6s e un samsung galaxy s7 edge oggi noi proveremo la durabilità del vetro praticamente dei gorilla glass mi sembra che l'iphone dovrebbe avere anche il gorilla glass come vetro e lo proveremo con un trapano con una stupenda bella punta appena provata nuova nuova di zecca quindi per fare il test quindi il trapano è perfettamente funzionante come potete vedere i telefoni dovrebbero essere funzionanti almeno speriamo perché ne hanno ancora per poco ok siamo pronti ah che sei mica te siete piatti o sei mica ma te ne sta tornando che mi sta facendo a capiccioletare o ascoltate le coche su loco come mangiato non ti ascoltare con me oh si ando male perché il video mi devi capire che avendo un pennello mi devi capire che spunto il cervello di questo succo sangue a capiccioletare le passo tra le pannello di due colera diabete completamente ma che si è fuso sì.. a chi hai sono i ditani allora ma ha più di la mamma che hai fuso completamente e che fanno ragione che è a bocchi si ingangia panse ma rischia il c'è ci sia anche te scutate la coche su no comi che sognia tutto il corpo tutto il sangue tutto che tutto come tutto ah te sta scutando con me aaaaaaaa oh senti per tutti mi metterai a toccare me perchè è compatta ma non che ti faccio ma non c'è lì fa il migliormento del biglietto solo capisci per la quede Questi giovani d'oggi non hanno il coraggio di affrontare le realtà Vieni, fatti sotto trapano assassino Con grande gloria La prossima volta picciotte, accattatevi un trapano meglio La prossima volta